ci sono nel mondo delle corse auto destinata a rappresentare una vera e propria rivoluzione pietre miliari capaci di farsi ricordare per aver tracciato una netta linea di demarcazione tra quello che si è visto prima e quanto verrà dopo è questo l'esempio della lamborghini scv 12 hypercar che verrà realizzata interamente nello stabilimento di sant'agata bolognese vettura dedicata esclusivamente all'utilizzo su pista la scv 12 rappresenta l'apice tecnologico che al momento la casa del toro sa offrire l'aspetto destinato a rappresentare una vera rivoluzione è uno la scv 12 è la prima auto al mondo ad aver ricevuto l'omologazione fia per correre senza roll cage il merito va ad un telaio monoscocca in fibra di carbonio appositamente realizzato da lamborghini e che certamente farà scuola anche per la concorrenza non è però tutto nota di merito è come sempre il v 12 aspirato di sant'agata da ben 830 cavalli il più potente prodotto dal toro che andrà a scaricare tutta la sua potenza sulle ruote posteriori grazie ad un cambio portante a sei marce derivato dall'auracan super trofeo evo al quale sono state ancorate le sospensioni posteriori a schema push road a 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 livello di studio aerodinamici la lamborghini scv 12 è figlia diretta dell'esperienza maturata dalla squadra a corse in giro per il mondo ad esempio il cofano anteriore presenta una doppia presa d'aria con un costola centrale costola centrale vista sulle uracan super trofeo mentre in taglio laterale una coppia di pinne ha il compito di andare ad indirizzare al meglio l'aria verso il motore del cambio per migliorare nel raffreddamento il quadro si completa con una generosa ala posteriore regolabile dotata di doppio profilo per essere più diretti possibile santa agata ci tiene a sottolineare che l'auto riesce a generare più deportanza di quanta non sia mai stata prodotta da un loro modello da corsa per quanto riguarda gli pneumatici per equipaggiare i cerchi in magnesio da 19 e 20 pollici pirelli ha studiato una gomma slick ad hoc proprio per questa vettura la scv 12 è destinata ad una facoltosa e selezionata clientele esclusiva che andrà a comporre un elite simile per darvi un'idea a quanto visto con il programma xx firmato ferrari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti